Non ci arriva la palla, si finisce contro la Balaustra e riparta ancora il Correggio, questa volta incontropetta il Correggio, 3 contro 2, il tiro, attenzione, gol del numero 26 Caroli adesso per il Correggio. La deviazione di Alberio che salva tutto, riparte quindi ancora il Seregno in un 2 contro 1 con Tremolada, il tiro di Tremolada centrale addosso al portiere, che per poco non finisce sotto le gambe del portiere, gran tiro adesso di Cunegatti e via ancora con la palla a Seregno, Tremolada che si fa tutto il campo, arriva davanti alla porta al passaggio per Alberio, Malagoli dietro per Tremolada, Tremolada esce dalla porta per Malagoli, grande parata. Palla sul secondo palo di Tudela per Righi che la appoggia in porta, ancora Febbo, si avvicina la porta, incredibile traversa di Febbo, Tudela passa dentro porta, cerca un'alza e schiaccia, manca la palla ma riesce comunque a recuperare, ancora Tudela un altro alza e schiaccia, questa volta colpisce la palla. che si infila sotto il 7 che si infila sotto il 7 Palla per Cunegatti, Cunegatti da solo davanti alla porta, gol sotto il 7 sul secondo palo dopo un Alberio, ancora Alberio, passaggio per Malagoli, il tiro di Malagoli sul Pedroni, passaggio sbagliato, recupera Alberio, contro Piede Seregno, Alberio per Malagoli, riesce Righi, puntata di tiro, Righi ancora, parapetta Nuzzolo per la seconda volta, lontana ancora per Tudela Tudela cerca il passaggio per Righi e dietro il portiere riesce a Bozzetto, lancia per Tremolada in mezzo, ancora Tremolada, Tremolada dietro porta il portiere sdraiato, passa per Malagoli per Bozzetto, gol di Bozzetto Grazie Grazie